Grillo ha fatto di questa parolaccia lo slogan del suo movimento, forte probabilmente di una sentenza della Cassazione secondo cui talune parole sapuroscene sono diventate di uso comune e dunque non offensive, ma dicono anche i giudici dell'alta corte. Devono essere usate in contesto amichevole e ludico di piazza. Insomma, seppure l'interpretazione è piuttosto larga, Grillo continua indefesso a lanciare i suoi simpatici improperi. Ma c'è un'altra parola che comincia con la str e finisce con la o, quella insomma che ha usato Bossi ieri nei confronti di Tosi, sindaco di Verona, in un contesto tutt'altro che amichevole e conviviale, entrata a pieno titolo nei dizionari. La usò a fini colloquiando con dei ragazzi perché arrivasse meglio, in gergo giovanile, il concetto dell'antirazzismo. Una parola insomma ormai molto usata, ma diciamolo anche abusata. Del resto lo dice chiaro la Cassazione. Tu puoi scherzosamente dire a un amico se è stato str a non venire alla festa, ma certo non scherzava la Bindi nel censurare il comportamento alla Camera dei Radicali che hanno risposto per le rime. Difficilmente si possono ritenere oggi conviviali gli scontri al suono di insulti nei talk show televisivi. La giustizia però per questo tipo di reato non può intervenire senza querella di parte. Dunque, visto che le parolacce ormai le usano tutti, sarebbe troppo lunga la lista delle querele e delle controquerele. Così la sdocannata parola compare ora senza remore anche nei titoli dei più importanti quotidiani. Pochissime le eccezioni come quelle della stampa e del Corriere, che interrompono elegantemente con qualche puntino l'improperio. Ma solo la stampa, bisogna riconoscerlo, mantiene la stessa linea anche dentro al servizio. Insomma, se dici str non rischi la condanna, ma sentirlo dire, soprattutto sentirselo dire, non fa piacere a nessuno.